che voleva dirmi affanno cresciuto non dava adito alle parole che volevano certo essere aspro a giudicare dagli sguardi e dai gesti con cui tossendo cercava di farmi comprendere il servo gli domandai cercando angustiato un'interpretazione accennò di sì più volte col capo irosamente poi con la mano tremolante mi fece altri gesti lo caccio via sì 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 ma accennò col capo di nuovo per quanto l'indignazione a cui pareva in preda il povero infermo ora si comunicasse anche a me al pensiero che quel servo vigliacco si fosse approfittato dai brevi momenti durante la giornata nei quali ero costretto ad allontanarmi pure restai perplesso venivo proprio ad annunziargli che d'ora in poi non avrei più potuto trattenermi a vegliarlo a curarlo come nei primi giorni della malattia cacciando ora il servo poteva egli restare solo lì in casa mi venne in mente lì per lì di persuaderlo a cercare un ricovero o in un ospedale o in qualche casa di salute e gliene feci la proposta nonno bauer lo chiamavo così fin da quando ero ragazzo mi guardò con occhi smarriti poi guardò in giro lentamente la camera la cui vecchia superlettile gli era tanto cara quanto la sua stessa persona e dal seggiolone di cuoio entro il quale stava sprofondato volse infine gli occhi alla finestra senza rispondermi c'era di là un giardinetto apparteneva agli inquilini del secondo piano ma chi veramente ne godeva era lui nonno bauer che da quella finestra bassa poteva conversar comodamente col giardiniere e allungando appena un braccio toccare i rami di un mandorlo che adesso pareva tutto fiorito di farfalle mi accorsi che due lacrime erano sgorgate dai calvi occhi infossati del mio caro vecchietto due lacrimoni che ora gli scorrevano sulle guance di cera lei non vorrebbe è vero ma frettai a dirgli impietosito negò col capo senza guardarmi quasi vergognoso mentre la commozione gli agitava le labbra no ebbene vuol dire che si provvedrà in altro modo intanto lei non si affliga e povero vecchio alzò gli occhi lagrimosi a ringraziarmi e un mezzo sorriso quasi puerire gli affiorò alle labbra e subito si contrassero come per far greppo tanto intervento aveva provato in quel punto per sé povero nonno bauer moriva o meglio si spegneva poco a poco lì solo e dopo una lunga vita tutta stenti e fatiche per essere arrivato all'ultimo di quegli oggetti familiari testimoni della pace finalmente conquistata e dopo una lunga vita tutta stenti e fatiche esser privato all'ultimo di quegli oggetti familiari testimoni della pace finalmente conquistata gli era parsa una vera crudeltà era nato in Italia da genitori alsaziani e fin da giovanetto era stato con nonno e poi con mio padre nell'umile ufficio di scritturale di banco dopo il nostro rovescio finanziario e la conseguente morte di mio padre se ne era andato in Alsazia a trovare i parenti sconosciuti trascorsi circa sette anni è quello di ritorno in Italia vinto dalla nostalgia per il paese in cui era nato e cresciuto era ritornato con una modesta sostanza ereditata dal mio cugino morto celibe in quei sette anni io ero rimasto solo senza più la mamma e quasi povero nonno Bauer venne a trovarmi appena ritornato e mi profferse di abitare con lui non accettai perché per le buone relazioni di cui godevo avevo da poco ottenuto un impiego di fiducia che mi obbligava a viaggiare continuamente tuttavia non perdetti mai di vista il buon vecchietto andavo a trovarlo ogni qualvolta ritornavo a Roma e lui mi accoglieva con tenerezza paterna era per me una vera delizia la sua compagnia conversando con lui mi pareva di tuffar l'anima in un bagno d'antica semplicità nonno Bauer era rimasto in uno stato di vergine ignoranza per quasi tutte le cose della vita e bisognava vedere con quale e quanta meraviglia la sua mente si aprisse man mano alle cognizioni più ovvie ora che la vita per lui era quasi finita passava ore e ore in biblioteca a leggere, a studiare per rendersi conto di tante e tante cose che veramente ormai non doveva più importargli di sapere restava astordito di ciò che apprendeva così tardi riportava l'ammaestramento al tempo in cui avrebbe potuto giovargli e si immerseva allora in lunghe e profonde considerazioni immaginando il diverso cammino che avrebbe potuto prendere con esso la sua vita ma la sua passione più viva erano le piante una volta andò via da una casa per non veder morire un albero che era cresciuto non si sa come in mezzo al cortile quel povero albero, io lo ricordo sarà levato sul magro stelo cilereo con evidente sforzo erizzando i rami come a supplicare desideroso di vedere il sole e l'aria libera e angosciato dalla paura di non avere in sé tanto rigoglio da arrivare oltre i tetti delle case che lo circondavano ma finalmente c'era arrivato e come brillavano felici le frondi della cima e quanta invidia destavano in quelle che stavano giù senza aria, senza sole anche nella morte, nello staccarsi dei rami in autunno le foglie di lassù avevano una lieta sorte volavano via col vento in alto cadevano sui tetti vedevano il cielo ancora mentre le povere foglie più basse morivano nel fango della via calpestate tutte le stagioni all'ora del tramonto quell'albero si popolava di una miriade di passeri che pareva vi si dessero convegno da tutti i tetti della città quei rami allora palpitavano più d'ali che di foglie pareva che ogni foglie avesse voce che tutto l'albero cantasse fremebondo dalle finestre delle case i bambini sorridevano storditi a quel passeraio fitto, continuo assordante Anna Bauer si affacciava con me sorrideva con aria misteriosa di vecchio mago mi diceva socchiudendo gli occhi aspetta e batteva forte due volte le mani subito come per incanto tutto l'albero taceva esanime che te ne pare ma di lì a poco lo sbaldore ricominciava ogni passero tornava a inebriarsi del proprio gridio e di quello degli altri e il concentro diventava man mano più fitto più assordante di prima ora avvenne che il proprietario di quella casa un bel giorno pensò di alzar tutto in giro il muro per fabbricare un altro piano e allora l'albero che con tanto stento si era guadagnata la libertà del sole dell'aria aperta piegò avvilito la cima si curvò sul tronco Anna Bauer vedendolo così cominciò a smaniare a sentire una pena che gli toglieva il respiro guarda guarda mi diceva mostrandomi i passerotti che dalle grondaglie spiccavano il volo e si tenevano sospesi sulle ali gridando quasi per esortar più da vicino l'albero a rizzarsi forse quei passerotti anche loro ripetevano al vecchio albero le solite frasi gli inutili consigli i vani ammonimenti che si sogliano dare ai caduti agli sconsolati fatti coraggio non bisogna avvilirsi raccogli le forze rialzati ma il vecchio albero non aveva ormai più forza di rialzarsi aveva stentato tanto per arrivare fin lassù a quell'altezza più su ormai non poteva arrivare meglio morire andato via da quella casa nonno Bauer se n'era venuto in questa col giardinetto che non apparteneva a lui non andava più da un pezzo in biblioteca erano cominciati gli acciacchi della vecchiaia dopo la settantina e nonno Bauer non potendo più uscire di casa tutti i giorni se ne stava alla finestra a conversare col giardiniere e fare all'amore come gli diceva con le rose del giardino di quelle rose e degli altri fiori si innamorò tanto che cominciò a struggersi dal desiderio di avere anche lui un giardinetto gli venne allora un'idea che non mi piacque affatto quando me la manifestò quantunque la fondasse in un ragionamento pieno di buon senso alla mia età mi disse bisogna pensare figliolo mio anche alla morte e già che non ho tanti quattrini da farmi due case con due giardinetti me ne farò una sola ma bella e con un giardinetto che verrà per due questo mi servirà per sfogare ora il desiderio che mi è nato quella che mi verrà poi e quando questo poi sarà arrivato al giardinetto di nonno bauer verrai a pensarci tu così acquistò un buon pezzo di terra il campo santo la casa sotto invece che sopra e senza nessuna pretesa una piccola nicchietta e lì perché i morti hanno questo di buono che possono anche fare a meno di star comodi e dell'aria e del sole ed ogni altra cosa visto e considerato che si sono tolto per sempre il fastidio di muoversi di respirare e che se sono freddi non sentono più nessun bisogno di riscaldarsi ma veramente nonno bauer stando intere giornate lassù quando si sentiva bene intento a far nascere il giardino da quel suo pezzo di terra pareva un morto venuto su dalla sua nicchietta sotterranea per darsi ancora da fare per muoversi per bearsi ancora dell'aria e del sole zitto zitto e affacendato senza più nessun pensiero nessuna curiosità della vita senza neppure accorgersi dello stupore di certi visitatori del campo santo che si fermavano in distanza a mirarlo a bocca aperta lì chino su questa o quella pianta con la forbice o con la zappetta o con l'annaffiatoio o seduto sulla sedia a libricino che si portava ogni mattina appesa il braccio il cappellaccio di paglia in capo l'ombrello aperto sulla spalla immobile con gli occhi fissi nel vuoto assorti in qualche pensiero lontano che gli atteggiava ad un lieve sorriso le labbra tra la barbetta argentea veniva a qualcuno quasi quasi la tentazione di andarlo a scuotere ed ordinargli che se ne tornasse giù subito a riposarsi perché a un morto non è recito per dio sconcertar così la gente farla impazzire con tutte quelle sue faccende là attorno al giardinetto o con quella immobilità sul sediolino e quell'ombrello aperto sulla spalla la sera nonno bauer ritornando a casa parlava col giardiniere dalla finestra bisognava sentire che conversazioni aveva ottenuto da lui semi e tralci da trapiantare lassù e i fiori sosteneva sbocciavano meglio assai meglio là che qua perché infine i morti a qualche cosa erano ancora buoni ora inchiodato da quindici giorni in quel seggiolone di cuoio da cui non doveva più alzarsi egli non sentiva altra pena che quella di non poter recarsi neanche in vettura a vedere il suo caro giardinetto lassù ed era per lui una consolazione veder quest'altro invece dalla finestra sollevandosi un poco sulla vita a stento e allungando il collo quanto più poteva le rose che vi fiorivano non erano forse sorelle delle rose che fiorivano lassù meno belle ma sorelle e sapete perché quel giorno io trovai nonno Bauer così arrabbiato contro il suo servo perché non era vero che questi si fossero recato ogni mattina al camposanto a curare il giardinetto come nonno Bauer gli aveva ordinato il vicino giardiniere venuto quella mattina a fargli visita gliene aveva dato la brutta notizia non ci fu verso dovetti cacciar via il servo lo cacciai anche in verità perché lo ritenevo infedele e sgarbato il vicino giardiniere promise che ci sarebbe andato lui ogni giorno a curare le piante sorelle più belle e così nonno Bauer si tranquillò io pensai conoscendo purtroppo che la morte non poteva essere lontana di domandare l'assistenza di due suore per quegli ultimi giorni ed egli non si oppose era cosciente del suo stato e non se ne rammaricava appunto aveva vissuto a lungo aveva assaporato la pace ora si sentiva stanco era tempo di chiudere gli occhi e dormire per sempre là nella nicchietta sotto le rose dell'altro giardino ogni giorno andando a visitarlo mi sorgeva innanzi alla porta la speranza che la mia assidua costernazione dovesse essere ovviata da un repentino miglioramento ma la men giovane delle suore che veniva ad aprirmi la porta rispondeva sempre con un gesto di triste rassegnazione alla mia prima ansiosa domanda mi trattenevo da lui qualche ora la conversazione però languiva poiché egli dopo avermi accolto con un sorriso mesto e muto di riconoscenza spesso richiudeva gli occhi e allora io per non disturbarlo me ne stavo zitto come le due suore assistenti veramente quegli occhi non si sapeva più come guardarli così scavati dentro come erano nel male che lo consumava nessun rumore nessun segno di vita arrivava in quella linda casetta appartata in cui il vecchietto aspettava tranquillo la morte talvolta nel silenzio attraverso le vetrate giungeva il cinquettio di un passero io e le due suore alzavamo gli occhi alla finestra il passero era lì su un ramo fiorito del mandorlo e scotendo or di qua or di là il capino guardava curioso nella camera come se volesse domandare che fate e poi a un tratto un frullo e via così avesse compreso che cosa in quella camera si stesse per aspettare un giorno nonno Bauer mi domandò se ero stato a vedere il suo giardinetto se ero stato ma non avevo voluto dirglielo perché non me l'hai detto fece egli qua o là ormai non è lo stesso anzi è meglio là hai visto come è bello vi tengo tutti impicciati e io ho tanta voglia di dormire gli parlai allora delle sue piante tutte in fiore esagerando per fargli piacere la mia ammirazione gli occhi di nonno Bauer si avvivarono di contentezza ci andrò presto peccato che non possa più vederlo lo spettacolo di quell'essere ancora del tutto cosciente che con tanta tranquillità sarà conciliato col pensiero della morte mi cagionava un occulto indefinibile sentimento ma di lì a pochi giorni un'altra cosa doveva stupirmi maggiormente sarà ammalato di una malattia assai grave l'unico figlio di un mio intimo amico vispo e leggiadro fanciullo di circa sette anni e già saccarezzava sul labbro un paio di baffetti immaginari e a cavallo di una seggiola con una sciabola di legno in mano un elmo di cartone in capo marciava a debellare in africa i beduini ero andato a casa di quel mio amico per affari e lo avevo trovato con la moglie in preda a un cordoglio angoscioso attorno al lettuccio dell'infermo adorato tifo tifo non sapevano dire altro padre e madre e si nascondevano la faccia con le mani come per non vedere il fanciulletto avvampato dalla febbre ancora turbato e commosso andai quel giorno con molto ritardo a visitare nonno Bauer egli prestò ascolto alla triste notizia recata da me per scusare il ritardo volle anzi sapere quanti anni avesse il bambino e se i medici avessero dichiarata la malattia tifo scosse il capo con le ciglia corrugate poi richiuse gli occhi e nella cameretta ritornò il silenzio consueto quanti giorni sono domandò dopo un lungo tratto senza aprire gli occhi non potendo supporre che egli pensasse ancora a quel fanciullo infermo e non intendendo per sola domanda gli domandai a mia volta quanti giorni di che che bambino è ammalato spiegò nonno Bauer come se parlasse in sogno nove giorni risposi e la febbre è sempre alta a un modo di bagni freddi gliene fanno anche una ogni due ore senza paura diglielo al tuo amico dopo un altro lungo silenzio volle sapere anche il nome del fanciullo il giorno appresso mi recai con lo stesso ritardo a visitare nonno Bauer e così nei giorni successivi andavo prima a prendere notizie del bambino e non già perché questo mi interessasse più del mio caro vecchietto ma perché nonno Bauer se ne interessava lui più di me e per prima cosa ogni giorno nel vedermi entrare mi domandava come sta come sta era rimasto impressionato del caso di quel bambino che moriva contemporaneamente a lui e mentre per sé non si lagnava nemmeno di quello si affliggeva così che pareva non se ne potesse dar pace ma di ma un consulto non l'hanno ancora tenuto e consigliava ai medici da chiamare avrebbe voluto salvarlo ogni costo purtroppo però il fanciullo era spacciato il giorno in cui diede a nonno Bauer la triste notizia c'era da lui a visita il vicino giardiniere il quale era venuto a riferirgli che il rosaio tutto intorno aveva gettato tanto che la pietra sepolcrale ne era quasi nascosta signor Bauer le rose dicono la dentro non ci si va ma nonno Bauer stava peggio anche lui quel giorno guardava con occhi spenti pareva non intendesse andato via il giardiniere cadde in letargo poi si riscosse con un sospiro e disse se volesse portarlo lì credetti che vaneggiasse e per richiamarlo in sensi gli domandai dove nonno Bauer lì e alzò appena la mano compresi e provai una viva tenerezza egli intendeva nel suo giardinetto lassù al campo santo voleva con sé il bambino lì nella nicchietta sotto le rose diglielo diglielo riprese con insistenza rianimandosi un po' e guardandomi negli occhi glielo dirai?